ciao a tutti ragazzi bentornati su Gamebusters e su Red Dead Redemption 2 allora siamo con il nostro John Marston siamo nel nostro accampamento e stiamo andando a parlare con un zio è vero ricolaggio per principianti not even a retired $2 orv would stay with you that's the goddamn truth now you used to be decent company but now you're worse than a snake with a toothache all he does is whine 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 excuse me oh don't get all angry it ain't gonna change nothing you're hopeless and I mean that literally you got no hope I mean look at you look at this place Il tuo sogno, home. Ho avuto più ricordi di questo sogno. Oh, amore, Abigail. Ho cambiato. Voi vivere con me in un'altra casa. Non mi chiede a fare il mio peggio peggio di prendere una cosa. Cosa stai dicendo? È vero. È un pollo. La casa ha bisogno. Gli un'esprete di un'esprete, tu misericordia. Buildi un'esprete una casa che un'amore in un'amore. Il place solo ha bisogno di un'amore. Ne ha bisogno di un'amore. Non è un'amore non potesse. Un'amore di Johnny, dai. Non, mi credo che questi bambini possono sentire in un momento. Ora, vieni. Tieni l'esprete in un'amore. Ti metti l'esprete in un'amore. Le bambini si prende dentro. Hai bisogno? Penso che. Allora. Beh, se vabbè. Se vabbè. Ora, puoi. Hai questo, John? Io andrò quando ti vede. Dai i cavallini, dai. Poverini però. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, a sto punto direi di andare da sedi. Andiamo a Blackwater, da sedi. Andiamo cavallino, ancora non ho scelto il tuo nome. Ok, andiamo da sedi, dai. Allo. Volevo legare il mio cavallo, l'hai legato tu. Vabbè, pazienza, dai. Non litighiamo per sciocchezze. Se ti togli però... Andiamo. Sedi, ma non stai qua? Ah, ecco di qua. Un'onesta giornata di lavoro. Sempre così. Andiamo. Andiamo. Assasino di bambini. Andiamo. 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 Eccolo. Immagino. Ok Sedi ma il tuo cavallo è un po' strano però Lo vedo un po' malaticcio no? Pure prima l'ho notato Andiamo John ha invitato anche Sedi ad unirsi Ad unirsi alla nuova banda diciamo Al nuovo gruppo formato da Zio e Charles Sedi ha detto che preferisce rimanere da sola Non ce la fa stare con la gente Ma insomma Vabbè Vediamo questo dizio dove si trova Ok Va bene Eccoli Immagino Andiamo Sedi con Sedi stiamo in una botta di ferro Va bene Bellissima sta zona Non me la ricordavo Va bene va bene Ti seguo Ok Ma dieci hanno un po' Ma io comunque non vedo Ah eccoli là Ma ti direi Minacciamoli dai Oppure giuiamo furtivamente dai Ok Ok Dai io mi prendo quello di destra Va bene No Ok Vabbè dai lo fuggiamo un'altra volta Grandissima sedi Arrivo 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 Oè Questo c'aveva la medicina per cavallo Andiamo Eh dai Perché non si muove Dai Allora uccidi in silenzio la guardia Si è rispastati un attimo per favore Ma perché? Per cosa è andato storto vorrei capire So C'è almeno farmene colpire uno seri mamma mia che cos'è non riesco a capire che cos'è andato storto sinceramente altro bronzo in arrivo sicuro perfetto andiamo 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 ma stanno giù ok Ma c'è un riparo da qualche parte Ok Dove cazzo sta andando all'edizione Ok Ok Allora prendiamo ovviamente Dai cavallini su Ok Andiamo C'avevo un esercito presso questo Ancora Direi cazzi Direi cazzo sta andando meglio la vista Perfetto Che casino Andiamo Dai che ci siamo Eh sì Eccoci arrivati Eh dai John ma perché Ok Il cavallo è contento E lo buttiamo in cella Dove stanno le celle Più avanti immagino No qua Sì Ok Marci scincella Con che grazie L'ha posato Ah Ok Va bene, ma sicuramente Ok gra... 200 dollari, minchia Allora ovviamente abbiamo preso il bronzo, non c'era nessun dubbio a riguardo Ok, non sono riuscito a vedere, vabbè comunque era un bronzo Ho premuto troppo velocemente il tasto Ok ragazzi, direi che con questo appuntamento possiamo salutarci qui Spero che vi sia piaciuto In tal caso mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like Condividete il canale o condividete il video se vi piace Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento Ovviamente sempre qui su Gamebusters Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti